signori miei cari ben ritrovati siamo sempre sul soma continuiamo l'avventura di simon alla ricerca della verità dello scorso appuntamento ci sono state delle belle delle belle bombe forse per quanto riguarda collegamento l'umore interrotto input manuale richiesto in poche parole metto queste cose io 22 0 8 omega noi andiamo avanti signori ben ritrovati sul canale proviamo collegarci ho svegliato numero vogliamo far così allineamento connesso quindi offline che è impossibile chiamare sito ops e non da sito ops che figli di puttana ha ragione che cazzo me lo metti nelle lecco eh vabbè ci ho provato dai io chiamo tau che è lontanissimo eh 22 0 6 ci fanno capire il culo deficiente ti auto chiami vediamo how offline appena fa mooc online non è bello è da dire ucciditi allora è poi tu a ammazzarmi se ci tieni tanto zio va tra il demente lambda ci abbiamo fatta finalmente oh questo è meglio oi simon era jared simon carina che è triniti cazzo 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 sì ma eri anche 100 anni prima solo roboti crazy ones no 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 che devi finire le altre cose no ma che sta a fare io credo che questo posto sta a scolasticare cosa devo fare manca inoltre come riesco a arrivare Treni-navetta. No! No, cazzo. Dovevamo ascoltare gli altri prima di Lambda. È che non mi ricordavo che mi avesse detto di contattare la Lambda. Eh, fortuna che non li ho fatti tutti in fila così ne abbiamo beccati degli altri. Cosa? Cosa? Come è possibile? Non è possibile! Questo non è... Questo non è... No, ma com'è possibile? Dai, ragazzi, che abbiamo la... Che cazzo siamo? I Power Ranger? Morphing Time? Che ci viene la tutina addosso? No, no, ma qua c'è qualcosa di fottutissimo. O è tutto finto... Tipo atto di forza. Non so se avete mai visto quel film. Naturalmente l'originale, intendo. Eh... Ma posso andare in alto? No, torna a fondo, torna a fondo. Atto di forza che gli impiantavano... Una realtà alternativa. Diciamo, se tu non potevi permetterti un viaggio a Marte, andavi in questa agenzia e loro ti impiantavano nel cervello i ricordi del viaggio a Marte. Fico. Solo che andava tutta puttana, poi. Cazzo, ma usciamo? Magari lui sia andato a fare questo scanner e... E stia sognando tutto. Boh. Sì, potrebbe essere un misto... Tipo Vanilla Sky, con i film di strani. Il sogno del cacciatore. Ok, siamo al di fuori della cupola. Sul fondale marino. Io adesso, ad esempio, qua... Abbiamo dei pesi, sicuramente, che ci tengono... Sì, sì, adesso la trovo. Abbiamo dei pesetti che ci tengono sul fondo, ma... Madonna, come sono brutte, però. In tre anni che lavorano questo titolo, potevano un attimino... Alcune texture... Oh, almeno come queste. Queste sono carine. Alcune sono orride. Vabbè, dai. Il sonore è fantastico. Nulla da dire. Comunque sì, sembra tutto... Tutto veramente strano, perché... Troppo irreale. Allora, Zeppelin in trasporto. Ok. Qua immagino che doveva esserci una navetta... E la navetta è già andata. Ciao, bello. Gli ha detto... Ciao, bello. Qua c'è un muro invisibile, andiamo via. Uh. Siamo velocissimi così, saltellando. Iiii. Siamo astronauti. Qua è chiuso. Iiii. Bello. Arrampi, che ti dai. Che torniamo in superficie. Scappiamo. Santo... Iddio. Tanto col culo che abbiamo, anche se andassimo in superficie, ci ritroveremo tipo a Twin Peaks o... O in una di quelle cittadine tutte fottute. Quindi, ah, sono fuggito dalla sotto. Boh, ti ritrovi in mezzo di maniaci sessuali. Mutanti, tra l'altro. Come se non bastasse. No, dai. Santo... Toccelo. Non fammi ritornare lì dove... Sappiamo benissimo che la navetta è andata. Yeee. Ma vado bene così? Cosa sei tu? Parte arrugginito male. Pronto. Con l'acqua salata funzioneranno bene quelle bagaglie qua. Provo ad andare di qui. In mezzo al buiame. Madonna, mi hanno sentito. Iiii, grazie. Ciao. Me lo prendo il databasser. Come in, Theta. Potrei rispondere a Strasky. Come in! Amy, dove sei? Il campo. Il campo. Ho bisogno di lasciare. È Carl con te? Tutto fu fuori. Guarda. Hai il potere automato, certo? La planta è sicura? Abbiamo bisogno del potere per mantenere i luci a riuscire. No, f***a il potere! F***a Strasky! Le macchine ha ucciso Carl! Oh, f***a! Allora, calma. È ok. Puoi tornare a Theta? Sì. Penso sì. Sì, ma il nostro Carl quindi l'abbiamo lasciato là. Dovevamo scollegarlo e lasciarlo scollegato? Non lo so, ragazzi. Effettivamente non penso che torneremo a Upsinon. Ma sembrava tanto umano. Madonna, mi sembrava di uccidere una persona. Non mi andava di staccargli la spina. Mi dispiace. Lui era veramente convintissimo di essere ancora Carl. Mi serve un altro gesto strutturale. Madonna, sono dei fattoni questi robot. Sono robot fattoni. Ora ho la spiegazione. Tossici! Oddio, ma anche quei pesci qua che cazzo hanno? 18 occhi. Ho radiattivi. Mi ha visto. Oddio! Vai via, vai via. Vai via. Robo cattivo. Sono incastrato. Voglio andare su questo sasso. Dai! Dai, salta! Madonna, salta. Non posso. Allora, devo andare dalla parte del robot, immagino. Ci passiamo da sopra però. No. Dai, non laggare. Senza un posto in cui andare. Poverino. Ma mi fanno... Sono fottutissimi di testo. Questi robot. Ciao. Madonna, se vado via. Grazie. Quanto vado via. Gamba in spalla. Gamba in spalla. Cosa sei? Cosa sei? Come sei pesante. Ciao. 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 È Eve. È di Wally. Ciao. Ma tu sei buona. Dove vai? È rincastrata sotto dei sassi, Eve. Da oggi sei Eve. Non è vero. Ma non mi caga. Ma viene con me. Forse mi difende. Vieni con me, Eve. Sì. Eve, quello che hai lì è un mitra. Vieni con me un attimo. Scusa, eh. Non per... Per vedere... Di che pasta son fatti. Sì. Eh, Eve. Mi vuole ciucciare il sangue. No, no. Sono di fatto... No, Eve non fa un cazzo, ragazzi. Madonna. Pensavo mi volesse bene. Pensavo sparasse. Comunque sono robot tossici. Vuole ciucciarmi il sangue. O comunque... Tutto quello che... Lui possa ritenere... Buono per la sua esistenza. Quindi andiamo via. Eve, vieni con noi. Eh... Dove sei? Te lo fai un cazzo di buono tu, eh? Eh. Ah, che hai detto. Quella di Wall-E... Sì che era Codinia. Con laser. Si pensava lei a far fuori quel robotaccio. Cattivo, eh. Cattivo. Robo cattivo. Vuole sangue nero cattivo. Che cazzo siamo? Madonna. Ma io mi perdo qui. Questi estraggono il petrolio? Che... Oh merda divina. Va bene farmi luce, Eve. Ma non farmi scoprire. Madonna ragazzi. Sono due ore che giro. Mi sono perso. Eve, dai muoviti. Ci siamo. Oh... Shuttle Station. Upsi non vi. Vai. Fai andare, Eve. Apri. Ah, è una scaldatrice. E io guardo qua. Cosa c'è? Vuoi toccare? Voglio toccare. Non si può. Grazie, tata. Ciao. 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 Lui era ancora sano. Mi fai entrare però? Va bene. Mi chiudo dentro. Se arriva quello là mi vuol ciucciare. Madonna. Tutto. Chiudi. Che dobbiamo buttare fuori l'acqua qua. Ciao. Grazie. Stai ciucciando l'acqua? Ah. Eh, c'era. Eh, calmi, calmi. Basta, basta. Adesso ho consentito. Va bene. Boh, si pianta tutto. Arrivederci. Finita la serie. Ciao a tutti. Grazie. Ci vediamo con Soma 2. Ancora. Dai! Sì, va bene, ma scusate. Io, secondo voi, come cazzo ci vedo? Come cazzo... Eh, eh, sì. Esatto. Caro Simon. Ma che cazzo sei un robot anche tu. Simon. Simon. C'era anche... C'era un robot. Non c'era mica il robottino. L'android famoso. Non è Simon. Bufferiamo, va. Sì. 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 Il primo che Abbiamo un po' più luce A disposizione Il secondo Ma a parte il fatto che tu infili le dita In tutti gli orifizi Quindi te le cerchi Simon No è chiusa Apri la navetta Il secondo dicevo Ora che abbiamo una torcia Prevedo che ci saranno zone Nere come la pece Ma questa non mi sembra La navetta molto funzionante E anche il corridoio Andiamo a dare un occhio qui Queste cos'erano? Scorte d'acqua? Ottami Un iPad Distinta di carico Va bene Articoli Rapporto sui rischi Kit Non c'è un cazzo Evento impatto Nella mattinata di oggi 12 gennaio Porca vacca Vedi? C'era una cometa Ore 5 E 13 La cometa Telus E' precipitata Nell'oceano Pacifico Il suo impatto Rappresenta una delle collisioni Più devastanti Nella storia del pianeta E tutto lascia supporre Che l'intera superficie Sia ormai inabitabile Inadatta alla vita La posizione di Pathos 2 E' offerta una protezione Senza uguale al nostro personale Sono stati riscontrati Un attimo Alcuni danni strutturali Ma nessuna vittima La perdita maggiore Rappresentata dalla Stazione meteorologica E di comunicazione Situata sulla piattaforma Di superficie Omega Senza personale Un piccolo prezzo Da pagare Date le circostanze Teta Terrà una riunione D'emergenza Per discutere Il futuro di Pathos E in definitivo Dell'umanità Seguiranno altri Comunicati in merito C'ho già la teoria pronta Io ragazzi Preparatevi Che arrivano Le teorie del Ferdi Attenzione Attenzione che arrivano Altri disegni Viti 15 bulloni Due di quelli Altri di cibi Viti E testa piatta Sette Relè E cosa fai? Non si sa Fai lui Costruisci l'uomo Perfetto Va bene Ecco la mia teoria Ragazzi Loro si sono preparati All'impatto della cometa Facendo queste basi Subacque Ha funzionato Buono È caduta la cometa Tutti felici Qua sopra Tutti morti Va bene Capita Sai com'è Cosa succede? Succede che dalla cometa Fuorisce qualcosa di strano Che va a intaccare Il robot E ha fatto impazzire Tutti i robot O rendendoli Fottuti di testa Ecco la mia teoria Grazie Arrivederci Sette Sembra uno canne di fucile Io vado di qua Posso? Grazie Però adesso abbiamo la tuta perenne Anche se c'è cercato di Mangiarci il dito Con la roba là Pico Ecco Questa roba Magari questa Oddio Ma da dove esce? Dai Dai però Dai Dai Cazzo C'è ragazzi Ok Forse il vostro primo titolo Signori Frictional Va bene Però con amnesia Penumbra Tutte quelle robe lì Un po' di successo L'avete fatto Un po' di soldone Vabbè Dai Basta Cosa stai facendo Ti stai mangiando Ma sono polmone Sta tenendo in vita Ma Amy Hai niente permesso a morire Canto siamo nel loro batteria Un accident Fixando il potere Stavo passando a Theta C'è qualcosa che posso fare? Se vedi i maestri O Holland Diceli che ho bisogno Ok Amy Neve Sì voglio parlare ancora Ok Amy Io ragazzi non lo so però In questo caso Cioè noi Carl Noi Carl Abbiamo staccato un attimo la spina Stava malissimo Sì ma anche questa Tanto noi non torniamo indietro Ma cosa la lasci qua così Però il suo volere Ragazzi non lo so Sistema di base acceso Stazione navetta Binario Ma questo non Ah ma io ho bisogno Per far andare la navetta Oddio tesoro mio Tesoro mio Tesoro mio Noo Noo Sì Stai bene Stai bene? Stai bene? Non lo so Così 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 Sarà la scelta giusta Magari No ma chi ci viene qui Ad aiutarlo Ma non troveremo mai nessuno Ok però lei non ci ha chiesto Uccidici sto di merda E va a levare Lei ci ha detto Porca puttana Lei ci ha detto che vorrebbe essere aiutata Che Che nessuno Niente viene lasciato morire Nel senso che viene utilizzato Dalle macchine Non lo so In quel caso lì sì Sembrava collegata a un respiratore Di polmoni artificiali Oh questa scatoletta Alimentazione spenta Porca ma Mannaggia Ok questo non va Io non vorrei che magari Aspetta aspetta Tenti Fammi leggere Ah ok No perché dopo mi incazzo Allora Pathos 2 Set Riparazione Camera dell'equilibrio Allagabile Pompa da Plex per 2 Ma non Tubi adattabili Chiave impatto Guarnizioni Ma non ci interessa È quello che Dovevano fare dei lavoretti Eh Signori io sono veramente Indeciso Sul da farsi Nel senso che Mi sta venendo L'idea Che se io stacco L'altro cavo Posso aprire questa porta Vaffanculo Faccio sempre il buono Dai Tanto tu non hai futuro Tanto l'abbiamo capito Che qua è tutto fottuto E qualcosa che Emi Non viene nessuno Ad aiutarmi Ti aiuto io Mi dispiace ma Io devo pensare A saltarci fuori Te Sei spacciata Chi vuoi che venga Ad aiutarti Sì Mio dio Mi sento in colpa Come un verme Madonna Adesso non si apre Nemmeno No No Abbiamo ucciso Per niente Vabbè dai Carlo L'abbiamo lasciato Mi sento in colpa Mi sento in colpito Shuttle J6 Activated Standing by Andiamo Voi siete qui Ma posso Tornarci ad esempio Qua Conferno Destinazione Omicron Annulla Aspetta E Non dirmi Che posso andare Dove voglio A lambda Dobbiamo andarci Quindi se io andassi A delta Annulla Proviamo un attimo A tornare là Dal nostro Carl Se possiamo Tornare indietro È merda No Non possiamo Ok E qua Non fa andare così Perché sei sceso? Sei calmo Perché sbaglio i tasti Ecco perché No no Nulla Andiamo a lambda Andiamo a lambda Welcome to pathos 2 Your expressway to the stars What started as a thermal mining operation in the 60s Has now become home to the Omega Space Gun The world's most affordable way to launch satellite And deep space probes Our unique Atlantic Ocean location Allows for this gigantic coil gun Running longer than a marathon To safely launch projectiles Without risk of damaging the payload With risky combustion The station has multiple sites And has a diverse staff of engineers Madonna Più lungo di una maratona 40 km di cannone Assemble And launch The world's most sophisticated spacecraft In this core principle And pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences Including hydroculture Turbulence And deep sea construction We are now leaving Opsilon for lambda Lambda is pathos 2 Shared our force to the surface Vabbè fatto sta che Abbiamo segato la povera Amy Vabbè Non penso avrebbe avuto un futuro radioso eh Però Magari stava da dio Piano 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 Navetta di merda Che cazzo Signori Ci vediamo Al prossimo appuntamento Continuiamo il nostro show Condividete Fatemi sentire nei commenti E grazie per le visual Ciao a tutti